prima di ascendere al cielo alla destra del padre gesù promise un altro consolatore che sarebbe stato con noi e in noi lo spirito di verità che ci avrebbe guidato sempre in essa se saremmo stati disposti ad ascoltarlo e seguirlo poiché egli parla con gentilezza e amore nei nostri cuori e nelle nostre coscienze quando ubbidiamo a dio lo spirito santo ne gioisce quando disubbidiamo lo contristiamo e rifiutandone anche la sua amorevole assistenza come fondamentale l'opera dello spirito di dio paolo scrisse ai corinzi che nessuno può riconoscere che gesù cristo è il signore e quindi essere salvato senza l'opera meravigliosa e fondamentale dello spirito santo egli che procede dal padre e che ci è stato donato attraverso il figlio ci mette in relazione col divino immettendoci nella vita trinitaria lo spirito santo dunque è dio in noi egli infatti ci fa conoscere il figlio di dio e il padre che lo ha inviato per la nostra salvezza inoltre abbiamo anche il meraviglioso dono o battesimo nello spirito santo che avviene dopo la conversione per aprirci ai suoi meravigliosi e fondamentali carismi ed essere efficaci testimoni di cristo nel mondo intero